Sono Grazia Di Michele, sono la docente nel percorso del canto che si occupa dell'interpretazione. Cos'è l'interpretazione? È la capacità di rendere efficace e di comunicare e di esprimere alla massima potenza le emozioni che si provano durante la performance, non dimenticando gli aspetti tecnici che comunque sono fondamentali. Bisogna imparare a cantare, ma non solo sapere come si canta, ma cosa si canta. L'interpretazione artistica è fondamentale all'interno di un percorso sul canto perché è la materia che contraddistingue un'esibizione più di qualunque altra cosa, quindi all'interno di Accademia Artisti mi occuperò con molto amore e gioia di interpretazione.